16. Di questa ne abbiamo veramente bisogno tutti e non ce n'è mai abbastanza. È il numero più giocato da quelli che sperano di ricevere il bacio della dea bendata. E se dovessi vincere a Napoli, ti può capitare di sentire che ciotta. Un gioco si bello bilancia il Vangelo e mette a duello l'inferno col cielo. Se il diavolo è astratto, un'anima pia implora l'estratto con l'Ave Maria. Così recita la composizione Il Lotto. È vero che conta solo il cammino e non lo scopo, ma qui si esagera un poco. Ma quante ricevitorie ci sono a Napoli? Uff! Poi se se ne cerca una specifica, conviene chiedere. Ad alcuni la notte porta consiglio, ma ad altri regala sogni che diventano numeri che possono regalare altri sogni. Ma bisogna ricordare ogni minimo dettaglio. Figuratevi se non trovate anche un'anima pia che vi dà uno strappo in motorino. Mettere a fuoco i dettagli e ricordare è questo che trasfigura il sogno. Ti vedo perso. Ti dico un segreto. Io conosco molto bene la fortuna. Vieni con me. Si vedeva che quella era una faccia di uno che aveva sognato. Perché alla fine ciò che conta davvero è sognare. Brava! 72! Questa è la meraviglia! Questa è la meraviglia!